Mi sembra di aver letto che lui ha detto anche che non pensano a vincere 4-0, che i complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo. Intanto lui ha fatto le ultime due finali di Champions, per cui è il più bravo di tutti in assoluto lui e la sua squadra. E poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che c'è nessun effesso.